Nessuna novità in casa Pescara, società e allenatore, tutto rimandato alla prossima settimana. Il presidente Daniele Sebastiani è fissato in mercoledì la deadline. Da giovedì il IBS Daniele Delicarri lavorerà concretamente sul progetto sportivo. Rosettano Navarro, l'ex azionista della Ponte d'Era, dovrebbe entrare in società e in parola con Sebastiani. Ma non escluso che il numero uno della società biancazzurra in queste ore stia trattando anche con altri imprenditori per allargare ulteriormente la base societaria. Difficile ma non impossibile l'opzione che prevede l'accessione completa di tutta la società. Capitolo allenatori, con la firma di Brambilla a Foggia si è ristretta ulteriormente la lista dei papabili. Sempre Attilio Tesser e Fabio Caserta in pole position, ma non sono esclusi nomi a sorpresa. Capitolo giocatori, il IBS Daniele Delicarri ha avviato tantissimi contatti. Si attende il via libera del presidente Sebastiani per poter concretizzare le trattative.